La storia di Ronaldinho, della ragazza che si è regalata. Io non me la ricordo, però non ci dite di mai. Ma cavolo, uno se la ricorderebbe. Io non me la ricordo. Davvero non se la ricordo. No, quella di Ronaldinho non me la ricordo. Mi ricordo quella dei poliziotti, mi ricordo quella dell'infermiere, mi ricordo quella di Babbo Natale. Suono assolutamente no. Erano vestiti che mi aveva regalato Gheddafi. E suono no. Con la croce. Con la croce. Ma che è la croce. C'erano le cose di smeraldi. C'erano delle pietre che facevano disegni sul petto. Bellissimi vestiti. Come omaggio di Gheddafi a me. Sono andato, bisogna spiegare tutto però, sono andato a Tripoli a una riunione degli stati africani. E lì c'erano tutti gli stand che riguardavano la produzione della moda libica. Ho visto questi vestiti e ho detto che belli. Lui ha sentito, ha preso nota, mi sono visto recapitare 60 credo di questi vestiti. Ne ho ancora diversi. E da suore, no? Ma no, ma sono belli. Sono neri con le cose. Ci sono tutti i diamanti, sui piedi. Non sono male, non c'erano. Appunto. La manzatrice del ventre. Scusa. Puoi spiegare di Burleschi e di cui ci parlava stamattina? Adesso gli è andato in pace all'anima sua. Lei non fa tutto, se anche il Consiglio si parla ancora. No, perché... Ma ho intenzione di riprenderla. No, lo chiedo perché vuole essere invitato. Ma posso venire a qua? No, perché con tutto quello che è stato fatto, c'è da Ezevedra, mi è venuta meno la voglia. Però ho intenzione di riprendere. No, la vostra strada è benissimo, secondo me. No, te sono benissimo. Come? Per tutti riprendere a fare... Le gare di Burleschi sono interessantissime. Al Bagaglino di Roma c'è uno spettacolo burlesque, in cui alla fine tutte le ragazze, no? E' già al top di tutti i tweet in Italia, questa qua del burlesque. Burlesque, beh, perché? Senta. È una forma di spettacolo riconosciuta ufficialmente. Un po' estreme, un po' estreme magari rispetto al burlesque classico. Ma nemmeno per sogno, burlesque, assolutamente meno estreme di quello che si vedono in televisione, di quello che si fanno in teatri pubblici e di quelle che cosa? Assolutamente... Senta, ma...